Ben ritrovati gentili amici e amiche all'ascolto, seconda edizione del nostro audio giornale che chiude la giornata odierna. I casi accertati positivi al coronavirus in Friuli, Venezia e Giulia sono esattamente 2977 con un incremento di 60 in più rispetto a ieri. Il numero più alto dal 16 aprile è quando i nuovi casi di contagio erano stati 72. I totalmente guariti sono 1.288, i clinicamente guariti, cioè persone senza più sintomi ma non ancora negative al tampone, 160. Si registrano inoltre 7 decessi in più che portano a 271 il numero complessivo di morti da Covid-19. Lo ha comunicato oggi Riccardo Riccardi, vice governatore del Friuli Venezia e Giulia, dalla sede operativa della protezione civile di Palmanova. Per quanto riguarda i decessi, quello di Trieste è il territorio più colpito con 141 casi, Udine 68, Pordenone 58, Gorizia 4. Relativamente ai casi positivi, l'area triestina registra 1.227 infettati, Udine 944, Pordenone 625 e Gorizia 179. A questi si sommano due persone non residenti in regione. Sono 13 i pazienti che attualmente si trovano in terapia intensiva, mentre ricoverati in altri reparti risultano 130 e le persone in isolamento domiciliare 1.115. Il Comitato Provinciale di Emergenza di Trieste ha autorizzato l'utilizzo di una nave ospedale per ospitare agli anziani risultati positivi che attualmente vivono in case di riposo per evitare il propagarsi del virus all'interno delle strutture promiscue. La decisione è stata presa in seguito al diffondersi del morbo nelle case di riposo, causando la morte di alcune persone. La nave attraccherà mercoledì, come ha confermato il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, e vi saranno trasferiti inizialmente una cinquantina di anziani. Si tratta dell'imbarcazione GNV Azzurra che attualmente si trova a Napoli. Il luogo di attracco non è stato ancora deciso. La dislocazione verrà definita mercoledì mattina, ha precisato il prefetto, al termine della riunione in cui hanno partecipato tutte le parti coinvolte, fra cui la Regione Friuli-Venezia-Giulia, il Comune di Trieste, la Capitaneria di Porto, l'Azienda Sanitaria, la Polizia di Frontiera Marittima e i Vigili del Fuoco. A mezzanotte è entrata in vigore l'ordinanza numero 11 del Governatore Massimiliano Fedriga che consente interventi di manutenzione alle barche da diporto e già questa mattina, presto, numerosi diportisti hanno raggiunto le rispettive imbarcazioni. A decine i triestini si sono ritrovati nei circoli nautici della città e agli ormeggi delle barche e alle darsene per effettuare gli interventi annuali necessari prima di mettere le imbarcazioni in acqua. Tutti con le mascherine hanno avviato i motori, pulito e compiuto gli interventi di rimessaggio pronti per affrontare la tradizionale gita in barca. Il provvedimento consente anche che le barche possano essere provate in acqua, in un ragionevole raggio d'azione. Stiamo lavorando, non ci siamo mai fermati, il team ha stretto contatto con le autorità competenti su diversi scenari. Possiamo dire che Barcolana si farà, sarà in acqua, ci saranno le barche per ritornare a vivere un'esperienza straordinaria, compatibile con indicazioni che saranno in vigore a ottobre, che oggi è prematuro stabilire quali saranno. Lo ha assicurato il patron della manifestazione, Mitia Jaluz, intervistato sulle prescrizioni in materia nautica. Lavoreremo insieme all'autorità per garantire una regata sicura. La gente aspetta, dovremo vedere se ci sarà la possibilità di arrivare dall'estero. L'apertura delle frontiere forse sarà l'ultima misura che sarà presa. Intanto siamo in contatto con i nostri iscritti e con chi vuole partecipare, ha proseguito il patron. Credo che dopo l'estate ci sarà la possibilità di navigare tutti assieme. La parte in mare è sicuramente organizzabile. Barcolana, a differenza degli altri eventi, è modulare. Può avere diverse forme di espansione e diversi format. Stiamo lavorando su diversi scenari e quindi siamo assolutamente ottimisti. Ha concluso Jaluz nel suo intervento. Le imprese di restauro di beni culturali, inquadrate con il codice ATECO 90.03.02, non sono tra quelle che potranno riprendere le attività al 4 maggio prossimo. Ma i restauratori, illogicamente assimilati agli operatori dello spettacolo, non rientrano affatto in questa categoria, tant'è che pagano la cassa edile. I restauratori facenti parte della CNA manifestano tutta la loro incredulità e indignazione. Si tratta di una superficiale approssimazione, commenta il Presidente regionale di CNA Nello Coppetto. I restauratori operano in cantiere o in laboratorio senza alcun contatto con il pubblico, generalmente con un numero ridotto di addetti per ciascuna unità produttiva e con un'amplissima possibilità di distanziamento sociale. Sono dunque attività con ridotto rischio di trasmissione del virus Covid-19. Un rischio analogo, se non inferiore, è quello dei cantieri edili, e certamente minore di quello di molte attività industriali, la cui riapertura invece è consentita dal decreto. L'errore è stato fatto dalla Commissione Tecnico-Scientifica, che ha assegnato nel documento pubblicato il 23 aprile un livello 4 al codice ATECO 90, senza però verificare la specialità dell'attività di restauratore che è molto simile al cantiere edile, precisa nella nota il Presidente Coppetto. Andiamo a concludere con le previsioni del tempo di domani, martedì 28 aprile, in Friuli, Venezia e Giulia. Su tutte le zone, nuvolosità variabile, probabilmente più intense sulla zona montana, specie al pomeriggio. Maggiore presenza di sole invece verso la costa. Probabili piogge sparse, specie al pomeriggio, inizialmente sui monti, dove saranno più abbondanti, in estensione e poi in serata anche su pianura e costa. Possibili temporali, sulla costa soffierà vento da sud o sud-est, debole o moderato. Le temperature, le minime in pianura, oscilleranno tra i 10 e i 13 gradi, le massime tra i 19 e i 22. Sulla costa 12 e 15 gradi le minime, 18 e 20 le massime. Con questa notizia chiediamo qui la nostra pagina informativa. Vi ringraziamo come sempre per l'ascolto. Se volete contattarci, usufruite delle nostre pagine sulle varie piattaforme social presenti. Grazie ancora, alla prossima.